E' una domenica, una brutta giornata. Non sei andata in palestra questa settimana e ti domandi cosa faccio? Sto a casa, ho uno step, due besetti e un tappetino, quindi mi posso dedicare tranquillamente, stando a casa, a fare un po' di esercizi. Mi riscaldo con gli addominali, ti appoggi e cominci a fare un po' di esercizi di adduzione del ginocchio al petto, di questi ne fai tre serie da venti, poi ti metti sul decubito, ti appoggi sul decubito laterale, appoggi la mano e porti il gomito verso il ginocchio. Anche questi tre serie da venti e intanto vi sono fatto un po' di esercizi per l'appoggio. A seguire, ti metti i calconi, ti fai esercizi di calciata con un appoggio, sempre tre serie da venti, cerca sempre di curare l'estensione dell'anca, per far lavorare bene i glutei bisogna estendere l'anca, non fare questo, è sbagliato, non serve per lavorare i glutei, quindi appoggi e tendi e ti fai qualche esercizio in questo modo per i glutei. Poi pettorali, sullo step, come puoi fare anche senza step, con le mani a terra, in pugna ad una larghe, cerca sempre di appoggiare il petto sullo step, appoggi e tendi, sempre tre serie da venti, e ti sei fatto anche esercizi per il petto. Alzate laterali, la schiena ben dritta, col bacino ampero spinto, in modo che così tieni attiva tutta la zona dei lombari, alzate laterali, freddaventi e fai la parte più distale del deltoide, a seguire ti fai i tricipiti, dorso piatto piatto, duvidi alti, estensione e ritorno, e ti fai esercizi per i tricipiti, sempre tre da venti, leggermente extra ruotando, girando verso l'esterno, l'avambraccio, ti fai i bicipiti, e sempre tre serie da venti, poi per completare, ti accosci in estensione con le braccia, e raddrizzi, pulsa le spalle indietro, quindi sinergizzi anche altri esercizi, accosci, tendi, pulsi, soffiando, così ti fai anche gli esercizi per i glutei, per le cosce, in maniera un pochino più potente, a seguire, ti fai sempre un pochino di stretching, i fondamentali dello stretching sono sempre i quadricipiti, i muscoli flessori della coscia, i cipiti e femorale, stretching dei muscoli della schiena, glutei, lombare, gambe tese, gli appoggi, appelli la testa, esercizi di stretching per le scapole, esercizi di stretching per i bicipiti, con questo calcoli più o meno è un'ora di lavoro se fatto bene, se puoi riscaldati, se hai ad esempio il tabellulano a casa, o sono esci, se hai possibilità di correre intorno a casa, entri, ti fai questo piccolo esercizio, questi piccoli esercizi fatti tranquillamente, li puoi fare a casa senza problemi, ciao!